Ciao amici di Italia Top Games, lo sapete, il giovedì mattina siamo qui pronti a mostrarvi le novità di PES 2018, specificatamente la modalità My Club, e partiamo subito dai giocatori in forma. Come potete vedere voi stessi, si notano subito Ronaldo, Higuain, Cavani, Verratti, Pichena, Ingolain, Icardi e tanti altri, Coulibaly del Napoli, Manolas della Roma, Morata del Chelsea, Assenzio del Real Madrid, Candreva dell'Inter, anche se l'Inter ha pareggiato l'ultima partita, anche il Napoli ha pareggiato, ma vengono messi alcuni giocatori tra i più. Anche il Suso del Milan, finalmente il Milan ha vinto contro il Sassuolo, Perotti della Roma, la vittoria a Firenze, l'ex milanista Bacca, Albiol, comunque il Napoli ha preso gol, Donna Roma del Milan nuovamente, e poi tanti tanti altri. Per chi scende? Vediamo un po' di giocatori italiani, c'è Chiellini, c'è Mertens, che effettivamente col Chievo non ha fatto una gran partita, Caglione, Marchisio, quindi sia Napoli che Juve, anche se la Juve ha vinto contro il Penevento, Miranda dell'Inter, e poi scendiamo per Indelgeno, a Belotti del Torino, Gabbiadini, Arnautovic, ex giocatori della Serie A, Astori della Fiorentina, Balotelli, e poi si scende tanti tanti altri. Allora, oggi c'è un aggiornamento, come dire, che si basa sulla nazionalità di alcuni giocatori europei e sudamericani, vi diciamo subito che questo gente non ci fa morire, questa settimana non ci sono particolari bonus, e quindi, come dire, vi anticipiamo che il nostro voto è insufficiente, lo diciamo subito, allora intanto io ho un po' posto in arrivo, cosa è arrivato, 10.000 GP per principiante MyClub ci piacciono, così faremo un giro di ruota in diretta, eccolo qui, Spanish and Dutch Great Players, ovvero grandi giocatori di Spagna e Olanda. I giocatori sono pochi, e questo ci fa piacere, 50, 72 giocatori, andiamo un attimo a vedere di che giocatori si tratta. Robben, David Silva, Martinez, Strothman, Saul, Reina, Morata, Snyder, e quindi tutti i giocatori appunto spagnoli e olandesi. Notiamo incredibilmente la mancanza di Cagliaon, oppure sta più giù? Siagra, Guardia, Rodrigo, Bartratteio, De Pai, Torres, Vidal, Grimaldo, forse perché non è sempre in nazionale, però ci sembra un po' strano. Va bene, comunque, i giocatori sono 75, quindi sono pochi, ci sono un po' di 76, un po' di 78, 79, parecchi, 81, 82, un 89 che è Robben, David Silva, eccetera, eccetera. Gente sui generis, diciamo, che a parte Robben, come dire, ha tre sole e palle nere, 14 d'oro e 55 d'argento. Mi molo la causa e giriamo la ruota e vediamo chi esce fuori, che non è la fine del mondo. Comunque una gente un po' particolare, diciamo. Vediamo, vediamo un po' se ci va bene, se ci va bene, se ci va bene, non ci va bene, un argento, vediamo un po' di chi si tratta, un allandese, Ruben Perez, capire, proprio un giocatore veramente inutile, molto bene, molto bene. Beh, però, io gioco con il 4-2-3-1, che sia mai che possa avere qualche senso nella mia formazione. Allora, andiamo a vedere se c'è qualche allenatore speciale, anche se ci crediamo poco. Tudor, Shevchenko, beh sì, c'è qualche allenatore nuovo, che però poco hanno a che vedere, diciamo, con la gente speciale. C'è pure il povero Juric, che qui viene dato ancora al Genova, ma è stato esonerato, è arrivato Ballardini, purtroppo Konami non è mai molto rapida da questo punto di vista. Qui c'è Igor Tudor, che è l'allenatore del Galatasaray, Jeff Shevchenko, l'allenatore del... no, l'allenatore di niente, è nazionalità ucraina. E poi c'è Schelotto, l'allenatore del Boca Juniors. E poi altri, i soliti fake, io re della Colombia, non sappiamo che squadra è, un irlandese, Ishi, l'allenatore del Kashima Antlers, che io non conosco, lo ammetto senza problemi. E poi, vabbè, altri allenatori, niente di speciale. Andiamo a vedere le challenge, se ci regalano qualche emozione in più. Per l'online ce ne sono... c'è qualcosa di interessante. Andiamo intanto a vedere la controcom, che... eccola qui, International Cup. Vediamo Spagna, Olanda, Brasile e Cile. Andiamo un po' a scoprire di che si tratta, vinci tutte e tre le partite. riceverai Special Agent, Spanish and Dutch Great Players Level 1, ovvero la gente che avete appena visto. Quindi niente di particolarmente incredibile. Ricordiamo intanto che il 16 novembre, finalmente, finalmente, ci sono voluti due mesi, arriva la prima leggenda in PES 2018, sarà David Beckham, che è una leggenda esclusiva di Konami. Infatti, non sarà solo in PES 2017, ma sarà anche in PES Club Manager, in PES Mobile, ovvero, l'hanno sfruttato fino all'ultimo Beckham. Allora, Co-op Challenge, andiamo un po' a vedere. Quindi sarà una sfida da fare in cooperativa. Partita 3 contro 3, vinci la partita senza limitazione. Riceverai Special Agent su Spanish and Dutch Great Players dopo la nostra prima vittoria. Questo fatto di alternare Co-op Challenge normali, fra virgolette, a Co-op in cooperativa, ci piace. Questa è una cosa che apprezziamo di Konami, che ha voluto proprio, come dire, dare più importanza alla modalità cooperativa, che è una delle ottime novità di PES 2018. Che voto diamo a questo aggiornamento? 6 meno, 5 e mezzo, dai, siamo lì, una sufficienza molto ostentata o una lieve insufficienza. Perché comunque questa gente, se avete qualche giocatore particolare da volere, può essere interessante. C'è la Challenge cooperativa. Non ci sono bonus, non c'è molto. Però su, 5 e mezzo, 5 e mezzo più che 6 meno. Dai, 5 e mezzo e la chiudiamo qua. Perché comunque, dai, bisognerebbe renderlo un pochino più vivace. My Club, appunto, le leggende volevano arrivare prima. Adesso speriamo che dopo Beckham sia solo la prima di una lunga serie che, ecco, non si interrompa subito. Comunque, io vi ringrazio per l'attenzione come sempre. Siete sempre più iscritti al canale di YouTube. Siete sempre più numerosi a visitare italiatopgames.it. Vi ricordo che, come ogni giovedì, c'è il TG Tech alle 17 su Simpli Radio. Tutti i dettagli su italiatopgames.it in home page. Ricordatevi che oggi si vince un bel gioco per PC, Total War Warhammer 2 da non perdere. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Buon PS, buon campionato, buoni videogiochi a tutti. Ciao!